Si chiama Trip Planner ed è la prima app gratuita per pianificare e facilitare i propri spostamenti con i mezzi pubblici di Pavia. Basta inserire un punto di partenza, una destinazione e il servizio evidenzierà il percorso migliore e quale autobus prendere con i relativi orari. Questo è un esempio del fatto che è stata fatta un'attività di ricerca in un laboratorio, è stata fatta con gli studenti del corso di dottorato italiani e cinesi. Questa app è stata attestata con l'aiuto di studenti e a chi è diretta innanzitutto? È diretta innanzitutto agli studenti dell'università, in modo particolare agli studenti pendolari e agli studenti stranieri. Sviluppata nel laboratorio di robotica e ingegneria dei servizi dell'università, in collaborazione con il comune di Pavia, l'app è disponibile per sistemi Android, ma al servizio si può accedere tramite browser da qualsiasi PC o device mobile. Questo insieme di dati permetterà, che noi chiamiamo Web of Data, permetterà di costruire ulteriori applicazioni, ulteriori servizi. Entro la primavera Trip Planner fornirà gli orari dei bus di Pavia in tempo reale ed eventuali interruzioni o deviazioni. Nel secondo semestre dell'anno invece saranno rilasciate nuove applicazioni per analizzare i flussi del traffico e per segnalare direttamente al comune disservizio malfunzionamenti. Nel 2015 si aggiungeranno le app che guideranno gli utenti all'interno di edifici complessi e quelle a supporto degli spostamenti di anziani e disabili.